Zero amianto già in precedenza è incapsulato alla scuola dell'Orciolaia e così dopo il via libera dell'ASL a breve si potrà tornare in classe seppur con qualche giorno di ritardo. È arrivato ieri pomeriggio il via libera dell'azienda sanitaria per la chiusura del cantiere che ha rimosso l'amianto dalla scuola, spiega il vice sindaco Lucia Tanti. I lavori sono stati terminati a fine luglio ma il laboratorio di analisi ha dovuto ripetere per quattro volte le verifiche perché i vetrini non risultavano perfettamente leggibili. L'intervento, costato 150.000 euro, è iniziato al termine di quest'ultimo anno scolastico e ha previsto la bonifica delle pavimentazioni in vinile amianto e la successiva posa in opera di pavimento in linoleuma. Come anticipato ai genitori, prosegue Lucia Tanti, la scuola dell'infanzia riparte lunedì 11 settembre anziché venerdì 8, mentre il nido riparte nella settimana del 18 settembre con comunicazione della data il 14 settembre. Ovviamente, su richiesta delle famiglie del nido che non possono far fronte a questi pochi giorni, saranno attivate risposte personalizzate e la retta di settembre, sempre per i genitori del nido, conclude, sarà sospesa anche per facilitare soluzioni alternative. Grazie.